Allora, prima di iniziare con il video oggi vi ricordo che è sul sito di Pumpling, che trovate il link in descrizione qui sotto ci sono un sacco di prodotti di Tema Nerd, tra cui tantissime magliette con stampe molto carine e interessanti vi mettete in subito in pressione alcune di quelle più belle che ci sono al momento per quanto mi riguarda trovate i link a queste singole magliette che stanno scorrendo sullo schermo in descrizione qui sotto ma trovate anche ovviamente il link al catalogo completo così potete dare un'occhiata e vedere se ci sono magari altri prodotti che vi interessano come sempre se il vostro acquisto aggiungete un po' di calze alla vostra scelta e usate il codice VILASZLO le calze non le pagate, quindi se vi interessa sapete cosa fare, ora però bando alle ciance e iniziamo subito con il video di oggi Segla! Allora, oggi è giovedì e quindi parliamo del nuovo episodio del Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere, in questo caso il quarto della seconda stagione come sapete, se avete visto il video precedente, sui primi tre episodi non mi avevano convinto nel tutto c'erano delle cose che mi avevano fatto impazzire però nel complesso li avevo apprezzati questo invece credo che sia uno dei migliori della serie finora se non addirittura il migliore sotto tanti punti di vista innanzitutto da un punto di vista narrativo è densissimo succedono un sacco di cose, la narrazione è migliorata di colpo ci sono molte meno cose che non funzionano rispetto ai tre episodi precedenti e anche a livello tecnico devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro sia dal punto di vista registico ecco diretta questa puntata da Louise Hooper che aveva diretto insieme a Charlotte Brandstrom il secondo e il terzo episodio di questa seconda stagione e ci sono dei momenti che proprio da un punto di vista della messa in scena mi hanno lasciato a bocca aperta io ho avuto la pelle d'oca in più di una scena e ci sono tantissime cose che mi hanno fatto impazzire tra cui anche la colonna sonora di Barry McReary tra l'altro il brano musicale che si sente nei titoli di coda che è ispirato a una canzone scritta da Tolkien è fenomenale io quando inseriscono brani cantati come questo impazzisco e credo che anche i più scettici stavolta dovranno quantomeno riconoscere che ci sono tante cose in questo episodio che sono eccezionali io credo che la cosa che mi ha colpito di più è il sense of wonder che si respira in questo episodio secondo me si respirano come mai prima d'ora le atmosfere degli scritti di Tolkien anche perché vengono introdotti molti personaggi e più che altro creature che ancora non conoscevamo e si sono concentrati su tre storyline principali e devo dire che per quanto riguarda la questione dello straniero siamo andati avanti abbiamo iniziato ad esplorare parecchio il destino di quest'uomo misterioso che in realtà è un istar non è un uomo e finalmente è arrivato un momento che io stavo attendendo perché in questo episodio c'è un personaggio che mi faceva tanta paura perché non era semplice da adattare dal momento che persino Peter Jackson si rifiutò di farlo quando venne il momento di scegliere se inserirlo oppure no nella sua trilogia e quindi il timore che mandassero in vacca la sua caratterizzazione ovviamente c'era mi riferisco ovviamente a Tom Bombadil e ragazzi per quanto mi riguarda sono riusciti a renderlo benissimo l'attore Rory Kinner è molto bravo e tra l'altro sono riusciti a renderlo buffo ma non ridicolo sono anche riusciti a farlo cantare senza che sembrasse un ubriaco che ti chiede la moneta a stazione centrale la cosa che ho adorato è che sembra allo stesso tempo inoffensivo ma anche potentissimo percepisci la sua antichità percepisci che è un'entità misteriosa ma che pretende l'assoluto rispetto e è esattamente quello che dovrebbe essere Tom Bombadil e poi magari a livello visivo non ce lo presentano ancora come dovrebbe essere vestito come lo descriveva Tolkien ma abbiamo visto le foto del materiale promozionale in cui ha la veste blu il cappello a punta al momento ancora no credo che durerà al massimo un'altra puntata però il modo in cui interagisce con lo straniero per me è fantastico c'è anche una citazione al libro del Signor Viglianelli che ho apprezzato tantissimo ma è una puntata piena di citazioni alle canzoni a scene che venivano descritte non solo nel Signor Viglianelli ma in generale in altri scritti di Tolkien ecco io credo che abbiano fatto un ottimo lavoro e questo Tom Bombadil per quanto mi riguarda al momento è eccezionale voglio vederlo ancora voglio capire come lo caratterizzano perché per il momento abbiamo solo fatto la sua conoscenza ancora non l'hanno esplorato e non credo però che lo esploreranno più di tanto però un pochino di più rispetto a quello che abbiamo visto in questa puntata secondo me sì questo mi fa piacere perché hanno iniziato a spiegarci alcune cose anche la questione del personaggio interpretato da Karen Hines cioè quello che in tanti pensavano fosse Saruman per me non è Saruman Saruman circolava da qualche giorno la teoria che potesse essere lo stregone di Hangmar ma a me non dava l'idea di essere un uomo diciamo che in questa puntata qualcosina in più veniamo a sapere ecco ma rimane ancora il dubbio chi è questo io mi rifiuto di credere che sia Saruman c'era anche l'idea che potesse essere uno degli stregoni blu però il problema è che è malvagio è palesemente cattivo quindi io l'ho già detto nel video precedente a questo su questa seconda stagione quindi sui primi tre episodi l'idea di un Saruman già cattivo così tanto tempo prima rispetto a quando si allera con Sauron durante la guerra dell'anello non mi farebbe impazzire perché è vero che nell'Hobbit lo vedevamo che ancora non era stato corrotto dal male però era un po' stronzo diciamo che un Saruman buono effettivamente da un punto di vista audiovisivo ancora non lo avevamo visto è sempre stato altero e superbo quello sì però non cattivo quindi non lo so è molto difficile perché in questa puntata ci danno delle informazioni che però vanno in contrasto con quello che sappiamo poi nella parte spoiler vi dirò meglio però io sono un po' perplesso su questo su questo personaggio sono un po' perplesso devo essere sincero però poi c'è la parte con Nori e Poppi che visivamente parlando è incredibile perché comunque veniamo portati in un luogo che mi ha affascinato da morire mi sono venuti i feels del Signore degli Anelli dei film di Jackson sotto tanti punti di vista e ha fatto la sua comparsa un nuovo personaggio che nessuno ma ha chiamato anche Merrimack che è interpretato da Gavi Cevra Singh che è quell'attore che si pensava all'inizio che sarebbe stata un'incarnazione di Sauron a quanto pare no tutta quella parte a me è piaciuta anche perché c'è un momento tenerissimo che mi ha fatto scendere anche la lacrimuccia il personaggio di Nori diventa sempre più interessante a me lei piace veramente tanto mi piace anche il fatto che al momento lei e Poppy stiano prendendo una strada temporaneamente loro per poi ricongiungersi suppongo a quella dello straniero ma lo straniero sta facendo qualcosa di molto più importante al momento e da un certo punto di vista ero convinto che sarebbe andata in questo modo ho apprezzato il fatto che vogliono concentrarsi sullo straniero e sul suo rapporto con Tom Bombadil perché le cose che si dicono sono di estrema importanza da un punto di vista narrativo poi voglio spiegare meglio perché secondo me tutta la parte di Tom Bombadil è da analizzare minuziosamente perché ci sono delle cose che sono veramente fenomenali e poi si sono concentrati sulla storyline di Galadriel Elrond e degli Elfi che stanno andando nelle Region come abbiamo visto nell'episodio precedente e anche qui il rapporto tra Elrond e Galadriel è un po' più maturo e adulto rispetto a quello che abbiamo visto nei tre episodi prima di questo e anzi c'è un momento verso la fine che ho trovato ottimo un ottimo climax quello che succede è interessante è anche vero che gli Elfi diciamo secondari quelli di questa compagnia che hanno costituito per andare da da Kelebrimbor per impedire che Sauron lo soggioghi non sono proprio questa furbizia incredibile ecco io magari avrei caratterizzato un po' meglio questi Elfi perché sono un po' dei rincoglioniti cioè fanno delle cose che ti fanno pensare ma questi sono Elfi ma 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 chi gli era data la patente da Elfo Topo Gigio cioè seriamente adesso va bene tutto però davvero si fanno infinocchiare come dei deficienti ma c'è una parte che secondo me è realizzata bene da un punto di vista della CGI e allora la CGI in questa puntata mi ha convinto per lo più diciamo che la parte di cui sto parlando è una parte di uno scontro ok non è male come CGI però secondo me funziona di più nel concept design che nella realizzazione poi a me non è dispiaciuta anche la realizzazione e il combattimento l'ho trovato interessante forse un po' troppo buio o scuro l'avrei fatto leggermente più luminoso perché va bene che bisognava avere un contesto cupo però forse hanno un po' esagerato eh mettiamola così forse era un po' buio come scena magari per mascherare la CGI però no perché mi sembrava che risaltasse in realtà però è una scena molto interessante io l'ho apprezzata tanto e quindi tutta la parte della di questa compagnia mi è piaciuta perché comunque si esplora il potere dell'anello si cerca di capire eh che cosa sta succedendo a Galadriel perché lei comunque è influenzata dall'anello ma non nel senso che viene soggiogata da Sauron è come se avesse dei lampi delle visioni del futuro come già era accaduto nei primi episodi che avevamo visto per cui è interessante cercare di capire come funziona il potere degli anelli degli elfi perché in teoria non sono stati corrotti dal potere di Sauron ma è Galadriel che avendo incontrato Sauron è sotto la sua influenza anche a distanza quello che mi è piaciuto di questo episodio è che ti fanno vedere come Sauron stia prendendo possesso sempre di più della terra di mezzo senza che lo vediamo perché in questa puntata Sauron non c'è ma se ne avverte molto forte l'influenza e questa cosa l'ho apprezzata tantissimo anche perché è esattamente quello che mi aspetto da Sauron Sauron è un'ombra lo dicono più volte anche nei film lo dicono più volte nel libro è un'ombra che scende sulla terra di mezzo quindi anche quando lui non è in scena è comunque la minaccia principale e quindi sono anche curioso che ritornino a mostrarci cosa sta accadendo nelle Region tra Celebrimbor e Sauron perché secondo me nel frattempo la situazione è avanzata e Celebrimbor è sempre più risucchiato dal potere oscuro di Sauron quindi mi piace anche il fatto che in alcune puntate mettano da parte alcune storyline per approfondirne altre mi piace il fatto che non in tutte le puntate vediamo sempre tutti i personaggi è una cosa che mi fa piacere ad esempio nel terzo episodio non c'erano Popp, Nori e lo straniero perché si erano concentrati sulla questione di Isildur tra l'altro grazie per avermi fatto scoprire una cosa che non sapevo nei commenti sotto al video precedente che la pronuncia giusta è Isildur e che sono stati doppiatori all'epoca ad averlo pronunciato male per più di vent'anni ho pronunciato il nome come Isildur e in realtà è Isildur e infatti l'hanno corretto anche nel doppiaggio quindi non lo sapevo non ne avevo idea perché non sono esperto di pronunce di personaggi e luoghi e creature torqueniane in generale io con le pronunce faccio schifo proprio a prescindere che si parli di Serena degli Anelli o comunque di questo mondo o meno faccio proprio schifo con le pronunce comunque è Isildur benissimo e quindi si sono concentrati proprio anche come terza storyline della puntata su Isildur Arondir e Estrid allora questa parte mi è piaciuta soprattutto la parte finale di questa storyline della puntata perché è veramente bella succede una cosa che attendevo di vedere da quando ho guardato il primo trailer di questa seconda stagione ecco lì la CGI mi ha convinto un po' di meno devo essere sincero non che mi aspettassi l'utilizzo di effetti visivi effetti speciali pratici per amor di Dio però diciamo che anche qua molto buia come scena un po' forse per mascherare l'effetto diciamo che mi aspettavo qualcosa di più però il modo in cui tutto è messo in scena i dialoghi mi sono piaciuti tantissimo in generale io trovo che questo episodio abbia una scrittura che ha fatto un'impennata improvvisa nei primi tre episodi della seconda stagione c'erano delle problematiche narrative e anche qualche piccolo problema di dialoghi però in realtà i dialoghi mi sembravano migliori rispetto a tanti altri che si erano sentiti nella prima stagione cioè avevo avvertito che avevano iniziato ad aggiustare il tiro secondo me il tiro lo hanno corretto ancora di più in questo episodio anche sotto questo punto di vista perché i dialoghi sono eccezionali e c'è una scena che riguarda Rondir e uno di questi personaggi che per me ha un pathos che è incredibile io ero lì ho avuto veramente la pelle d'oca lì ero estasiato stavo guardando e dicevo boh è veramente spettacolare c'è però una cosa che non mi ha fatto impazzire cioè il rapporto tra Estrid e Isildur secondo me è troppo rapido è veramente troppo troppo rapido questi si sono appena conosciuti ma subito sembrano avere un legame speciale non lo so io avrei evitato di affrettare le cose così ecco diciamo che se nei primi tre episodi avevo avvertito una fretta del diavolo qui secondo me si sono presi molto di più il loro tempo non sono andati troppo veloci tranne che per alcune cosine come ad esempio la questione del del rapporto tra Isildur tra Isildur e ogni tanto mi parte di nuovo la pronuncia sbagliata Isildur e Estrid mentre invece mi sembra che Arondir abbia finalmente trovato quello scopo che era venuto meno a causa del fatto che l'attrice che interpretava Bronwyn si è ritirata e quindi proprio dalla recitazione quindi hanno preferito accantonare il personaggio eliminandolo e quindi lui prenderà una strada bisogna vedere come gestiranno Theo io su quello sono abbastanza in dubbio sono sempre convinto che lui diventerà uno dei nove cioè io su questo non ho molti dubbi mi fa piacere che abbiano ripreso subito le redini della storia di Arondir perché la mia paura era che non sapessero più che cazzo fare col personaggio invece in questo episodio succede qualcosa che tra l'altro ha molto a che fare con il suo essere un elfo silvano e questo non mi dispiace quindi voglio capire dove la cosa lo porterà e mi piace come si inizino piano piano a intersecare le varie storyline perché comunque la storyline dello straniero di Nori di Poppi è importante perché lo straniero è un istar e ha un compito ben preciso per salvare la terra di mezzo quindi riguarda tutti la questione delle Region è importante perché là c'è Sauron che sta irretendo che le Brimbo e gli Elfi devono cercare di fermarlo e anche questo riguarda moltissimo tutti i personaggi perché c'è di mezzo Sauron la parte invece di Theo Estrid Arondir Isildur è importante perché da lì si connetterà poi a Numenor essendoci lì Isildur e sapendo quanto lui è importante per Numenor e quanto sarà importante per il destino della terra di mezzo quindi io credo che abbiano fatto veramente un ottimo lavoro come ho detto prima ci sono dei momenti in cui la colonna sonora è veramente entusiasmante ha delle sono diciamo che la colonna sonora mi aveva colpito di meno negli episodi di apertura in questo episodio sembra migliorato tutto all'improvviso le cose che non mi hanno fatto impazzire qui non ci sono la colonna sonora imperversa ed è strepitosa per me per me è veramente un episodio eccezionale non so come altro definirlo ma proprio perché hanno aggiustato di molto il tiro poi certo un episodio solo non è che basta per cancellare gli effetti degli errori che ci sono perché ci sono lo sappiamo io ci tengo a precisarlo perché mi sembra che io parlo e la gente sente solo quello che vuole sentire io faccio notare che il video precedente si chiamava inizio di stagione traballante ma gradevole sotto al video un sacco gradevole sta roba il traballante non l'ha letto nessuno tutti hanno visto solo il gradevole traballante ma gradevole significa che riconosco i difetti ma nonostante ciò nel complesso quello che sto vedendo mi sta piacendo questa puntata ad esempio mi ha proprio risucchiato cioè io ho finito di vederlo ho pensato ma è già passata un'ora comunque dura un'ora e cinque ma è già passata più di un'ora madonna cioè mi ha proprio rapito questa in parte già nonostante qualche difetto gli episodi precedenti mi avevano proprio stregato ma questo questo è proprio quello che mi aspetterei da una serie sui siano gli anelli se fossero tutti così gli episodi penso che in pochi avrebbero da ridire poi sicuramente ci saranno persone che magari non avranno apprezzato anche questo episodio ci mancherebbe ognuno può pensarla come vuole però mi sembra che all'improvviso per questa puntata il livello si sia innalzato vertiginosamente quindi questo è quello che pensavo della puntata in maniera un pochino più generica adesso faccio spoiler per cui se non siete in pari non avete ancora visto questo quarto episodio della seconda stagione del signore degli anelli gli anelli del potere non proseguite con la visione del video siete avvisati mi raccomando allora partiamo da Tom Bombadil perché per me è una delle cose che vanno analizzate maggiormente è stata una delle cose che mi sono piaciute più dell'episodio bellissimo il fatto che lo straniero arrivi e trovi questa capretta io quando ho visto la capretta ho detto ok ci siamo è lui e incontra per appunto questo uomo barbuto gioviale che canticchia tra sé e sé un po' misterioso che gli risponde in maniera enigmatica e lo straniero ha in mano quel pezzo di pergamena dove sono disegnate le stelle che sta cercando che dovrebbero essere proprio in quella zona perché le aveva intraviste e non sembravano troppo lontane come posizione intendo ovviamente e questo foglio va verso quest'albero lui vede il foglio impigliato al ramo e pensa cavolo ma è questo capisce che quel ramo sarà il suo bastone da stregone lo riconosce si sente richiamare ma l'albero lo inghiotte ed è una cosa se non sbaglio ma correggetemi se sbaglio in un commento qui sotto che succedeva anche nel nei signori di anelli quando gli Hobbit arrivavano da Tom Bombadil e una cosa che ho adorato è che quando poi Tom Bombadil lo libera gli fa fare un bagno allo straniero e lui inizia a cantare una canzone in cui il soggetto è Baccador ok ecco il punto è che a un certo punto si sente la voce di lei e lo straniero che dice ma io ho sentito qualcuno una voce di donna che cantava ma quale voce di donna dice lui quindi c'è anche lei ma non Baccador non compare nella puntata però ti fanno capire che è lì e quando poi lo straniero va nel soggiorno della modesta abitazione di Tom Bombadil e vedi lui che accende una candela e si accendono tutte le altre a un certo punto sbadiglia e alimenta il fuoco nel cammino al che giustamente lo straniero dice ma tu chi sei e lui dice quello che dice anche nel signore di anelli e che viene detto anche nell'eventura di Tom Bombadil cioè ricorda questo Tom Bombadil era lì quando si è posata la prima ghianda quando è cresciuto il primo filo d'erba tutta quella quella parte molto poetica che ti fa capire quanto sia misterioso e antico Tom Bombadil in realtà Tolkien non ci ha mai detto molto su questo personaggio è chiaro che è uno spirito di Arda questo è in dubbio ma non è che si sia mai ben capito non si è teoricamente non è un Maya non è un Insta non si sa cosa sia e mi piace che siano riusciti con questa breve descrizione a far passare questo messaggio cioè è antico è potente ti basta sapere questo tanto non ti diranno con precisione chi è perché non ce l'ha mai detto neanche Tolkien hanno proprio centrato il punto il fatto che cantichi le canzoni ma non si metta a ballare perché se volessimo essere proprio fedeli a come lo viene descritto lui si metta a ballare a cantare ecco qua non l'han fatto così lo hanno fatto solenne il giusto allegro il giusto non è mai né troppo da una parte né troppo dall'altra non lo vediamo mettersi a ballare con le mani sui fianchi perché sarebbe stato ridicolo ma sono riusciti comunque a dargli quella caratterizzazione che dovrebbe avere Tom Bombadil e è lì che lo straniero capisce che in realtà lui non stava cercando le stelle lui stava cercando Tom Bombadil cioè non lo sapeva ma doveva incontrare Tom Bombadil e Tom Bombadil gli dice tu non sei il primo e-star che ha pasteggiato nelle stanze della mia casa ce n'è stato un altro e poco prima vedevamo Poppy e Nori che arrivavano cioè trovavano questo Merrimack questo nobody questo nessuno che li porta in questo villaggio hobbit scavato nella pietra che mi ha dato le vibes della Conteo e lì che dicevo dio che cosa bella stavo stavo impazzendo e è bellissimo perché non sono dei pelopiedi ma sono gli sturoi che era una diciamo variante hobbit che veniva anche descritta da Tolkien ovviamente poi esattamente come per i pelopiedi hanno inventato un po' e si sono inventati che era un'altra sorta di tribù però comunque sono gli sturoi che più avanti nella puntata Nori apprenderà che in realtà le due tribù sono gemelle perché è quella la scena che mi ha fatto scendere l'Akna che vedi Nori che parla con la Gunda la capovillaggio la quale dice ma perché Nori dice che il loro capo è Sadok e allora lei sa che Sadok è discendente di questo primo sturoi che a un certo punto se n'è andato per cercare questo mitico luogo dove gli sturoi avrebbero potuto vivere in armonia dei buchi nel terreno nelle colline che poi è la contea praticamente e lei dice non c'è mai arrivato in quel luogo perché ha iniziato a vagare si è creata la mia tribù si sono creati i pelopiedi e noi non abbiamo una casa e Nori piange perché i pelopiedi soffrono per il fatto di essere nomadi mentre invece questi quantomeno sono stanziali sono fissi non si muovono non devono pascolare in giro col rischio di lasciare indietro le altre carovane e che ne muoiono a mazzi ogni cazzo di stagione che si spostano se vi ricordate quindi anche quella parte è molto bella e quando vanno da Lagund Lagund quando loro dicono che devono aiutare il loro amico lei dice ma chi è questo amico è uno stregone lei si spaventa e dice l'unico stregone che è in queste terre è lo stregone oscuro che è per appunto il personaggio di Chiara Nines che vediamo anche in questa puntata che dice che si occuperà di persona dello straniero ora tornando a Tom Bombadil e lo straniero Tom Bombadil dice c'è stato un altro e-star lo stregone oscuro ecco questo è ciò che mi perplime di cui vi parlavo poco fa quali altri star possono esserci i blu ma in teoria non c'è quali sono gli star malvagi perché questo è malvagio ragazzi e Tom Bombadil ci dice che è un star quindi non può essere lo stregone di Angmar cioè come può essere è un uomo è uno dei nove non può essere lui se è un star l'unico che mi viene in mente è Saruman ma anche qui cioè è l'unico che effettivamente poi diventa cattivo perché pallando l'altro stregone blu non mi risulta che siano malvagi l'unico che potrebbe essere è proprio Saruman ma il problema è che farmi Saruman già malvagio adesso ripeto io lo so che questa serie non è canonica che si prende molte libertà però ammetto che qui non piacerebbe neanche a me perché non ha senso ma per quale motivo c'è bisogno di fare Saruman cattivo subito magari lo fai cattivo che poi viene redento dal dall'istar dallo straniero ecco allora in quel caso storcerei un po' il naso perché secondo me non avrebbe senso fare che è Saruman ed è malvagio che poi però si redime e poi torna ricade nel ancora con Sauron tra l'altro perché comunque è in combutta con Sauron lo dice Tom Bombadil le due fiamme e dice che lo straniero dovrà occuparsi di entrambe quindi chi può essere questo io veramente per me può essere solo Saruman ma non mi piacerebbe oppure è uno che si sono inventati e allora in quel caso forse preferirei piuttosto che avere un Saruman cattivo così tanto tempo prima che magari poi si redime e poi ci ricasca non lo so francamente sta di fatto che il compito più prossimo per lo straniero è riuscire a meritarsi il suo bastone deve imparare ancora molto non sa niente di se stesso Tom Bombadil probabilmente lo istruirà ma mi dà l'idea che non è che lo istruirà spiegandogli cosa deve fare è un po' tipo uno psicologo lo psicologo non ti dice cosa devi fare ti fa arrivare da solo al ragionamento è un po' quella roba lì secondo me io penso che nelle prossime puntate vedremo un Tom Bombadil che piano piano risveglierà il potere dello straniero tramite l'autoconsapevolezza cioè gli farà acquisire l'autoconsapevolezza in modo che questo pian piano capirà da solo cosa deve fare fino al momento in cui staccherà chiedendolo gentilmente all'albero il ramo per fare il proprio bastone e contenere il proprio potere credo che il senso sia più o meno questo per quanto riguarda la questione invece di Galadriel e Elrond è interessante perché devono andare nelle Region e a un certo punto trovano il ponte crollato e devono passare da un'altra parte quindi Galadriel ha una visione e dice non dobbiamo andare dove stiamo andando dobbiamo fare un altro giro e allora Elrond dice io non voglio che ti fidi di quell'anello perché tu magari ti fa ti dà delle percezioni sbagliate per ingannarti io non mi fido di questo oggetto e si ritrovano nel tumuli lande ad affrontare gli spettri dei tumuli che sono spettacolari a livello di concept a me sono piaciuti anche a livello di CGI però effettivamente sono un po' fintini però sono un po' belli da vedere lo scontro non è male peccato per l'elfo rincoglionito che viene risucchiato in uno dei tumuli che io dico ma che cazzo di elfo sei sembrano di rincoglioniti gli elfi che gli accompagnano cioè non sembra un altro che alla fine viene colpito da una freccia cazzo ma fanno cagare ma sono gli elfi meno elfi che si siano mai visti a livello proprio di attitudine degli sprovveduti maledetti però è bello che Elroand abbia l'intuizione di dover aprire un tumulo e prendere le armi che sono seppellite con i corpi da cui provengono gli spetti che sono le uniche cose che possono distruggerli quella scena però sulla risoluzione l'ho trovata un filo confusionaria quando lui prende la spada se non stai molto ben attento non capisci cos'è appena successo c'è uno stacco nel montaggio che per me non è chiarissimo quella parte si poteva fare un pochino meglio non tanto lo scontro quanto proprio la parte finale per quanto mi riguarda e quando poi Elroand e Galadriel parlano lei dice tu devi giurarmi Elroand che darai priorità assoluta a distruggere Sauron perché lei ha questa visione della corona di Sauron che viene impresa di Elroand che viene colpito di questa statua che cade quindi la rovina della terra di mezzo e lui dice non lo giuro a te perché io non posso giurare a te perché tu sei schiava di quell'anello ma ti posso promettere che dal canto mio non lo faccio per te ma per me sconfiggere Sauron è l'assoluta priorità ora è interessante perché poi finiscono con l'imbattersi negli orchi e quindi Galadriel ad un certo punto dice a Elroand li tengo io a Bada voi tornate a Lindon e tieni l'anello ti prego Elroand tieni l'anello e quando uno degli elfi dice si è sacrificata per noi Elroand scuota la testa e dice no l'ha fatto per salvare l'anello cioè lui ha capito che ormai Galadriel l'ha persa si vogliono bene c'è stima ma Elroand non si fida più di lei cioè ormai è chiaro e Galadriel viene catturata da Adar perché sembra che si è per sconfiggio gli orchi lancia una freccia infuocata Adar la prende e quindi la puntata si conclude così ecco questa storyline per me è molto interessante perché io credo che nel frattempo come ho detto prima sia successo qualcosa io penso che nella prossima puntata avranno già forgiato gli anelli lanici e Celebrimbor sia sempre più emaciato lo vedremo sempre più stanco perché il potere di Sauron lo sta consumando completamente come una candela io sono abbastanza convinto di questo anche perché il trailer si vedeva che a un certo punto era tutto magro scavato perché Sauron lo sta assorbendo in un certo senso lo sta talmente irretendo per forgiare sti cazzo di anelli per il momento sta facendo quelli nanici ma lui gli ha già chiesto di forgiare quelli per gli uomini e Celebrimbor lì non sembra ancora propenso perché dice gli uomini non potrebbero mai gestire un simile potere mi sono curioso di sapere quali saranno i nove perché comunque i personaggi tra gli umani che potrebbero ereditare gli anelli ce ne sono parecchi Farazon sicuramente Theo secondo me qualcun altro delle terre del sud io non io non so secondo me anche Estrid questo farebbe incazzare chiunque perché in teoria di Natsguddon non ce ne dovrebbe essere ma io fossi in voi mi preparerei perché secondo me secondo me Estrid un anellino se lo becca ma vabbè e poi passiamo alla storyline proprio di Estrid Isildur e Arondir con Isildur che palesemente vuole inzuppare Estrid come un batticuore mulino bianco nel latte però lei nasconde questo segreto che in realtà fa parte dei selvaggi che seguono Adar e si è cancellato il marchio con con il coltello arroventato quando Arondir lo scopre Isildur è assolutamente atterrito perché pensava ci fosse qualcosa di speciale anche se lei in teoria avrebbe un promesso sposo ma da un lato sembra quasi sollevato per il fatto che forse questo promesso sposo non esiste quindi vanno a cercare Tio perché è stato rapito e a un certo punto prima si imbattono in queste sabbie mobili con questo vermone gigante anche quella creatura mi è piaciuta molto devo dire e vediamo che lei mettono estri di inceppi poi gli aiuta ad andarsene a uscire dalle sabbie mobili quindi a rondir dà la chiave come a dire a Isildur come a dire fai tu lui la libera e quello che lei fa è puntarle una spada contro ma come perché lei dice tanto mi imprigionerete verrò imprigionata non mi perdoneranno Isildur dice ti prego stai tranquilla fino a che lei non viene schiantata contro un masso dagli ent perché quello che aspettavo io erano proprio gli ent un entessa e un ent tra l'altro l'entessa si chiama tipo fiorito inverno bellissimo nome e sono bellissimi perché sono due ent isolati quindi non è che sono gli ent che vivono con altri loro simili che sono addolorati per il passaggio degli orchi che hanno distrutto tutta la foresta e per i selvaggi di Adar che stanno devastando qualunque cosa e lì abbiamo a rondir che trova il suo nuovo scopo che accarezza l'entessa e dice io ti prometto che farò qualcosa e chiedo perdono a nome di tutti e allora l'entessa dice ci vorrà almeno un'era perché sì perché il perdono giunga e il modo poetico in cui parlano quando dicono ma voi sapete cosa è la pace e il modo in cui descrivono la pace è splendido splendido perché usano tutte metafore sulla natura sulla bellezza della natura la luce che colpisce l'acqua è una cosa di una bellezza incredibile gli ent li hanno centrati anche loro forse un po' rapida la scena per l'amor del cielo però non compaiono molto ma colpiscono per me sono dei bei personaggi gli ent in questo in questo caso la CGI lascia un filo più a desiderare tutto buio forse per mascherare un po' come dicevo prima il fatto che non è eccezionale come CGI però ammetto che mi sono commosso a me vedere gli ent e sentirli parlare in quel modo con quelle voci lente profonde che ti descrivono il loro dolore nel vedere la natura distrutta ed è bello che ciò risvegli in a rondir l'amore per la natura che non dico che si era dimenticato ma che aveva accantonato perché aveva un'altra missione adesso che quella missione non c'è più deve individuare gli orchi e fermarli prima che distruggano altra vegetazione distruggendo gli ent proprio a livello anche psicologico in un certo senso quindi il suo nuovo scopo è tener fede alla promessa fatta agli ent per ottenere quel perdono che ci vorrà un'era per ottenere quindi secondo me in questa puntata davvero hanno fatto jackpot poi tra l'altro hanno hanno anche approfondito leggermente i tizi con la maschera i gaudrim anche qui secondo me sono interessanti perché a un certo punto loro vanno a cercare Norio e Poppy questi due brutti ceffi nel villaggio degli sturoi e la capovillaggio fa finta di non averle mai viste e loro dicono lo sai perché portiamo la maschera però continua a provocare lo stregone oscuro e torneremo e te lo faremo te lo faremo scoprire lo capirai da sola perché indossiamo la maschera quindi perché indossano la maschera sono sfigurati chissà io devo capire ho bisogno di capire perché a me questo mistero su chi è chi perché poi per molti lo straniero è Saruman e non Gandalf perché noi io do per scontato che sia Gandalf ma magari non è Gandalf lo straniero se non fosse Gandalf secondo me ci hanno forviati in maniera disonesta perché ti fanno vedere la questione delle falene dice la stessa frase che diceva la Mary non mi conosco la Mary Pipino nel signore degli anelli nel dubbio segui sempre il tuo naso anche a livello somatico e simile non vorrei che ci stessero forviando e poi si scopre che è Saruman e allora se dovesse essere Saruman ma sto cazzo di stregone oscuro ma chi è io sono curioso come una scimmia su sta cosa voi non avete idea sto impazzendo sto cercando di capire chi cazzo sia questo ma non riesco a capirlo mannaggia tutto e questo mi sconfì mi sconfìrò molto perché non vedo l'ora poi nella prossima puntata mi aspetto che ci mostrino cosa sta succedendo a Numenor visto che Farazón è diventato lei tra l'altro forse mi sono spiegato male nel video precedente perché mi hanno detto ma guarda che l'aquila era arrivata per Miriel non per Farazón sì è ovvio che l'aquila non è arrivata per Farazón è arrivata per lei ma lui è stato bravo a far credere a tutti che l'aquila fosse lì per lui perché poi qualcuno ha detto oddio l'aquila è per Farazón lui si è agganciato subito e ha fatto credere diciamo che con un po' di suggestione ecco che ha fatto credere che che l'aquila era lì per lui quando in realtà l'aquila sembrava anche contrariata a un certo punto quindi per cui mi aspetto che mostri un po' quello che sta succedendo a Numenor probabilmente torneremo nelle Region e vedremo cosa succede tra che le vibro e Sauron e vedremo cosa accadrà con gli anelli in anici perché io penso che Durin Terzo entrerà già in possesso di quel bel anello con la pietrona blu che avevamo visto nel trailer e cercheremo anche di capire che cosa farà questo anello perché sicuramente è un anello che gli aiuterà a scavare e a sentire di nuovo la montagna ma allo stesso tempo io come ho già detto nello video precedente sono convinto che il richiamo del male dell'anello risveglierà il Balrog che se ne sentirà a tratto io ho questa impressione sbaglierò ma secondo me non siamo tanto lontani dalla verità e quindi nel prossimo episodio però spero che mi mettono ancora allo straniero e che vedremo chiamiamolo l'addestramento da parte di Tom Bombadil perché se com'è su Tom Bombadil c'è ancora qualcosina da dire e magari ci spiegheranno chi cazzo è sto minchia di stregone salcazzo no però scherzi a parte sono estremamente curioso anche di vedere come approfondiranno Tom Bombadil perché se com'è su Tom Bombadil chissà se ci mostreranno Baccador cioè mi chiedo perché ce l'hanno fatta sentire secondo me quando lo straniero Pop e Norris ne andranno lo vedremo Tom Bombadil con lei secondo me la vedremo in una scena proprio in un'inquadratura giusto qualche secondo ma secondo me la vediamo perché è palesemente lì con lui e poi mi è piaciuto anche il fatto che faccia queste sorte di giochi di prestigio tipo che infilza col coltello la pergamena fa un movimento e diventa una fetta di pane è proprio buffo è proprio strano è quello che speravo fosse non credevo mai avrei creduto che mi sarei ritrovato a rimanere così convinto nel modo in cui avrebbero rappresentato Tom Bombadil bravi 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 chapeau mi levo il cappello quindi staremo a vedere non è facile prevedere cosa accadrà in futuro se non quello che ho già detto cioè è molto difficile perché anche qui io penso che a questo punto lo straniero affronterà questo stregone oscuro e o lo redime e allora riscopriremo chi è magari o magari è veramente uno dei blu che è malvagio perché corrotto la Sauron che viene redento dal potere di questo nuovo istar appena arrivato certo non sarebbe canonico ma sti cazzi se poi mi riporti le cose come dovrebbero essere per me problemi non ce ne sono sinceramente quindi sono molto curioso di vedere che cosa potrebbe accadere nelle prossime puntate ma fatemi sapere cosa ne pensate vi è piaciuta questa puntata non vi è piaciuta in ogni caso come mai fatemelo sapere io vi abbraccio vi ringrazio grazie per avermi seguito fin qui e noi ci vediamo al prossimo ciao a tutti